Riprende fiato la speranza di salvezza per la provincia di Sernia. Ieri il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto affrontare il provvedimento di riordino delle strutture periferiche dello Stato, tra cui prefetture e questure collegate all'accorpamento delle province. Ma l'incalzare della crisi prodotta dal disimpegno del PDL ha provocato un nuovo stop. Così come i lavori al Senato per licenziare il decreto legge hanno subito anche loro un imprevisto rallentamento. La situazione politica nazionale sta precipitando ed è difficile pensare che si riesca ad approvare misure così fortemente contestate in ogni angolo d'Italia. Ancora ieri a Roma davanti al Senato un migliaio di persone provenienti da Frosinone, Chieti, Lucca e Siena manifestavano contro un provvedimento così impopolare. Se a tutto questo si aggiunge il clima già pre-elettorale non si riesce a capire come il governo Monti possa riuscire a passare il guado. Intanto sempre al Senato è passato l'emendamento che prolunga la validità delle giunte provinciali fino alla conclusione delle rispettive legislature. Per la provincia di Siena si parla della primavera 2014. Fino ad allora resterà in carica l'attuale esecutivo. Ma ora con la nuova posizione assunta da Berlusconi e sostenuta dalla Lega appare davvero difficile che il taglio delle province, prefetture e questure possa andare in porto entro fine anno così come si riprometteva il governo. Quasi certamente il problema si riproporrà con la nuova legislatura e con il nuovo governo. Per ora comunque si può affermare che l'imminente crisi dell'esecutivo Monti perso il sostegno del PDL farà finire su un binario morto il ridisegno delle autonomie territoriali. E paradossalmente bisogna ricordare come già nei lontani anni 60 una crisi di governo fece saltare all'ultimo momento la legge istitutiva della provincia di Sernia. Da una crisi all'altra e intanto continuiamo a sperare.